salve a tutti e ben trovati le principali piazze europee consolidano i rialzi in una seduta piuttosto cauta e priva di oscillazioni anche a milano prevalgono gli acquisti e lo vediamo dalla prevalenza del colore verde presente sulla nostra mappa del mercato quella relativa al fuzzimib di cui abbiamo un'anteprima qui a fianco il fuzzimib che come vediamo si mantiene stabile in area 22 mila registra un aumento laterale e chiude con un rialzo del più 0 e 80 per cento andamento laterale anche per l'indice di francoforte stiamo parlando appunto del dax sul fronte macro statunitense nel mese di giugno che sta per concludersi si registra un forte calo dell'indice di fiducia dei consumatori e peggiora anche l'indice richmond che ricordiamo misurare il livello di attività commerciale in questo clima gli indici di new york dopo un avvio discordante stanno peggiorando ed entrambe si stanno muovendo in territorio negativo il nasdaq si avvicina al punto e mezzo di passivo mentre il dow jones sta flettendo di qualche decimo di punto a piazza affari l'aumento di capitale di saipen fa ancora notizia il titolo occupa la pol milanese con un prezzo teorico a più 0 e 69 per cento si riscatta dalle sedute precedenti leonardo che cerca di avvicinarsi ai 10 punti posizionandosi sui massimi settimanali in scia a rialzo del greggio ben comprato tenaris ad un soffio dai due punti e mezzo mentre tra le utilities si apprezzano terna e italgas poco sotto al più 2 e 50 in controtendenza ampli for maglia nera meno 2 se escludiamo in wind e stm a ridosso del punto e mezzo di flessione tutti gli altri passivi del fuzzimib sono frazionali e stiamo parlando di banca generali e azimut infine una panoramica sul forex sugli incroci principali non con la moneta unica non si registrano scossoni rispetto a 24 ore fa l'euro dollaro perde a lievemento terreno nel pomeriggio attestandosi a 1 0 e 5 e 40 stabili e poco sopra la parità si stanno muovendo gli altri incroci con euro sterlina e euro yen ed ora la panoramica sugli indici internazionali a cura di alessandro aldrovandi ospite delle interviste di oggi di trader ring alessandro aldovandi trader indipendente e con lui come sempre daremo uno sguardo agli indici internazionali lascia te la parola e i grafici buongiorno a tutti partirei come al solito dal mercato italiano il nostro future fuzzimib che sta attraversando una fase laterale di congestione ormai da 10 12 sedute il mercato non scende perché sta tenendo l'importante supporto sul livello 22.500 mai rotto con una chiusura dei l'inferiore ma solo nell'intraday qualche volta e anche però purtroppo il mercato non sta salendo e fa fatica a superare con chiusura dei lì il livello 22.000 certamente questa lateralità ci accompagnerà anche per le prossime sedute forse addirittura anche per le prossime settimane in questo trading range compreso fra i 22.500 per quanto riguarda l'obiettivo rialzista e il supporto 21.500 quindi un trading range e di mille punti nulla di preoccupante però perché comunque e questa fase ripeto laterale può essere considerata ed interpretata come una fase lenta ma di accumulazione dove il compratore in molto piano molto lentamente con piccole e dosi e size stanno cominciando a comprare passando invece al future dax quindi al mercato tedesco la situazione è abbastanza analoga dopo che il mercato ha violato al ribasso addirittura il livello 13.000 lo ha prontamente recuperato e sta adesso lottando per andare verso le prime resistenze che si trovano sul livello 13.250 superato nella giornata di oggi e più in alto il livello 13.400 qui in realtà il mercato sembrerebbe essere leggermente più forte rispetto a quello italiano non vi è un doppio minimo ma un minimo importante quindi una sorta di piccola configurazione a vi che fa bene sperare per le prossime giornate se il mercato tedesco dovesse andare a rialzo c'è buona possibilità a questo punto che possa trascinare con sé anche il mercato italiano l'obiettivo nel caso del dax è il raggiungimento del livello 13.500 dove vi è una importante resistenza passando invece ed infine al mercato americano dando uno sguardo oltro oceano a wall street la situazione invece è molto positiva nel brevissimo termine sono già otto sedute compresa quella entuale in cui il mercato sta salendo con candele verdi anche piuttosto lunghe ha abbandonato quel doppio minimo realizzato sul livello 3.638 area 3.650 raggiungendo prima il 3.700 poi facendo un po' di fatica nel superare il 3.800 e poi di slancio arrivando fino a 3.900 che abbiamo conquistato ieri e anche oggi l'obiettivo per le prossime sedute e eventualmente anche un ritracciamento ci sta dopo questo mini rally delle ultime sedute con però il mantenimento delle quotazioni sopra il livello 3.900 quindi qui a differenza dei mercati visti in precedenza ci sta un ritracciamento ci sta una qualche candeline rossa di negatività per poi ripartire al rialzo ed andare a raggiungere l'importantissimo obiettivo dei 4.000 punti dove però lì c'è una nuova resistenza che è dettata dall'indicatore super trend perfetto alessandro io ti ringrazio come sempre delle informazioni e con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana grazie a te rossana buon tra ringrazio rossana e alessandro grazie a voi per l'attenzione rimanete sempre collegati e informati con i nostri contenuti gratuiti sul canale youtube di trader link e sulle piattaforme trader link cloud arrivederci a domani